... Seconda parte di 7 in punto, oggi mercoledì 9 aprile, una puntata dedicata alla sanità. Una puntata in cui abbiamo voluto inserire il termine male in entrambe le titolazioni per i nostri ospiti, ma quasi a esorcizzare questa idea di male. Il nostro secondo ospite, lo salutiamo e lo ringraziamo di essere con noi, è Stefano Bellon, direttore generale dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Buona mattinata a lei, dottor Bellon. Buongiorno a voi tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei di essere con noi. Sa, Città della Speranza si fa anche un po' fatica a parlarne perché, come dire, ormai ne parlano tutti e questo crediamo che sia la vostra più grande soddisfazione, cioè un lavoro che è durato non poco e che ha portato a dei risultati veramente straordinari. E' un lavoro che quest'anno compie 20 anni, proprio a dicembre di quest'anno la Fondazione Città della Speranza compie 20 anni e ha messo insieme numerose iniziative, soprattutto focalizzate sul bambino neoplastico che soffre. Una delle primissime iniziative è stata quella di realizzare il reparto della clinica di oncomatologia pediatrica presso l'azienda ospedaliera, un reparto completamente nuovo, stanze per il trapianto in minolossio, stanze per le degenze ordinarie, stanze per un reparto attrezzato per i day hospital, per le numerose prestazioni che ogni anno vengono fatte all'interno di questa clinica. E' stato completamente realizzato attraverso l'inesauribile opera di volontariato di privati e poi è stato consegnato in gestione all'allora USL 21, adesso all'azienda ospedaliera. Il reparto costituisce uno dei punti di forza da un punto di vista della rete territoriale regionale per l'oncologia pediatrica, è di fatto il punto centrale, mentre tutte le altre pediatrie ubicate sulla regione del Veneto fanno riferimento all'oncologia pediatrica ed è anche uno dei punti di forza della rete nazionale dedicata all'oncologia pediatrica. Nel corso degli anni, soprattutto grazie alla pionieristica e visione del futuro del professor Luigi Zanesco, tramandata sicuramente al professor Carli e all'attuale direttore che è il professor Basso, la clinica di oncologia pediatrica ha costituito il punto di riferimento nazionale e lo costituisce tuttora per le diagnosi delle leucemie acute. Per i sarcomi è punto di riferimento di diagnosi nazionale e punto di riferimento di diagnosi europea, così come per i linfomi non Hodgkin. Quindi, come posso dire, è un'iniziativa fortissima, fortemente voluta dal professor Zanesco e si parla dei primi anni 70, si è poi allargata sempre di più, ha conseguito successi su successi e ha consolidato questa sua caratteristica. Per il Veneto, appunto, è centro di riferimento nazionale, ma l'oncologia pediatrica insiste ed è perfettamente integrata all'interno del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, che poi comprende tutte le altre patologie pediatriche e anche le patologie delle gravi, delle nuove mamme. Sa, la cosa che piace di questa realtà che si chiama città della speranza è proprio quando si parla di radicamento nel territorio. Cioè, caspita, questo è un esempio mirabile di come siete riusciti anche a congogliare un interesse, una partecipazione. Lei ci parlava di privati, ma se pensiamo a questo grande traguardo che è il trasferimento nella torre della ricerca, che tra l'altro abbiamo la fortuna di avere a poche centinaia di metri dalla sede e dai nostri studi, cioè lì addirittura c'è stata la Camera di Commercio che ha concesso il terreno, cioè ci sono le istituzioni, i privati, proprio la comunità che partecipa alla crescita anche di questa vostra grande realtà. Fin da subito è stata necessaria e si è avuta immediatamente il coinvolgimento dell'istituzione pubblica. Lo è stato quando è stata realizzata l'oncologia pediatrica. Un esempio fra tutti, quando è stata realizzata l'oncologia pediatrica è stata fatta la prima conferenza dei servizi per la Regione del Veneto. Anche perché la clinica insisteva su un terreno di proprietà dell'università ceduto al demanio, come tutta la città di Padova in alcuni punti è facile trovare reperti archeologici dopo pochi centimetri di scavo e quindi non ci si poteva, tra virgolette, fermare senza trascurare l'importanza dei reperti archeologici che si trovavano e non ci si poteva fermare con la realizzazione dell'opera. Per cui c'è stato un continuo confronto positivo con le istituzioni. Confronto che è proseguito nel corso degli anni, anche quando la Città della Speranza, la Fondazione Città della Speranza ha deciso di finanziare con, allora era un miliardo di lire, adesso un milione di euro, la ricerca oncologica pediatrica e recentemente con il progetto che è iniziato a giugno del 2006 come la prima fase embrionale e con il progetto istituto di ricerca pediatrica dove sono stati coinvolti e rafforzati ancora di più i rapporti con i soggetti istituzionali con i quali si avevano rapporti e se ne sono affacciati di nuovi. Il primo che si è reso più manifesto tra tutti è stato il consorzio ZIP che attraverso i suoi soci, tra cui la Camera di Commercio come lei giustamente ricordava, il Comune di Padova e la provincia di Padova ha donato il terreno su cui insiste l'istituto di ricerca, che uno dice vabbè è un'iniziativa pubblica, perché non avrebbero dovuto farlo? L'hanno fatto ed è una cosa secondo me degna di essere ricordata, anche perché ha un valore simbolico o comunque un valore economico importante, perché quando ci è stato donato valeva un milione e novecentomila euro, che sono tutte risorse economiche che la fondazione ha risparmiato perché non ha dovuto comprare il terreno per metterne di più sulla realizzazione dell'istituto mirata ovviamente al finanziamento della ricerca. Si sa, come giustamente dice il dottor Bellone, non si deve storcere in naso quando si cita il termine economico anche parlando di malattie, perché ovviamente l'istituto di ricerca pediatrica significa anche prevenzione, per cui quando sottolineiamo il fatto di malattia uguale costo sociale, intendiamo anche un costo in termini economici. Assolutamente sì, l'istituto di ricerca pediatrica al suo interno ha gruppi di ricerca, gruppi di diagnostica, quindi ricercatori e personale addetto alla diagnostica pura e gruppi che fanno diagnostica avanzata. La diagnostica avanzata è il trasferimento dalle attività di ricerca di base al passaggio poi definitivo, quando tutti i processi sono affinati, tutte le metodiche sono perfettamente funzionanti alla diagnostica. Leggiamo insomma nelle note, nella scheda dell'istituto di ricerca pediatrica, cioè destinato ad ospitare a pieno regime 400 ricercatori, per cui diventa un punto di riferimento, crediamo non solo italiano. Assolutamente sì, la superficie a disposizione delle attività di ricerca è una superficie decisamente ragguardevole, sono 18 mila metri quadrati. Anche questa opera è stata completamente finanziata dalla fondazione Città della Speranza, a parte ovviamente il terreno che è stato regalato, ognuno ha fatto la sua parte, anche chi ha costruito, chi ha contribuito a fornire gli arredi, le attrezzature, ha cercato di contenere il guadagno al minimo indispensabile e quindi noi stimiamo che le spese sostenute, che sono state di circa 35 milioni di euro, corrispondano ad un investimento a prezzo di mercato di almeno 6-7 milioni di euro in più. È stato realizzato in maniera così veloce, la Città della Speranza è un organismo che raccoglie sicuramente contributi pubblici, ma non è tra virgolette soggetta a tutte le procedure con cui sono soggetti le opere pubbliche, pur avendo fatto tutto con la massima trasparenza, la massima accortezza in maniera tale che nessun centesimo di euro donato fosse disperso o comunque non fosse impiegato in maniera assolutamente trasparente. Buona parte dell'istituto è dedicata a attività di ricerca, ma come dicevo prima, una parte dell'istituto ospita anche attività di diagnostica, quella diagnostica che si fa, che si faceva regolarmente presso il Dipartimento di Pediatria alla Clinica Pediatrica e che si è trasferita, in questi giorni si stanno trasferendo le ultime strumentazioni, quelle più corpose, più delicate, più difficili tra virgolette da trasportare in tempi brevi che necessitano di smantellamento, ricalibrazione e quant'altro. E quindi dovremmo riuscire ad arrivare a regime con il numero che lei ha ricordato per la fine dell'anno, assolutamente. Sono risultati straordinari anche in termini di tempo, considerando la realtà quelli italiani in cui ci troviamo, dove determinati progetti vanno avanti fino alle calende greche. Noi ci fermiamo qualche istante, rimanete con noi perché poi abbiamo la parte conclusiva, quella molto corposa, in compagnia di Stefano Bellone, direttore generale dell'istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. A tra poco. Bene, siamo in compagnia di Stefano Bellone, direttore generale dell'istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. Vorremmo mostrarvi nella foto del sito www.cittadellasperanza.org ecco, grazie a Oscar Civile, il nostro regista che la sta visualizzando in questo momento. Insomma, c'è un'idea che poi, come dire, è sempre l'idea che si può avere in un sito, ma vi garantiamo che se vi capita, soprattutto attraversando la tangenziale di Padova alla sera, è meravigliosa. Dottor Bellone, allora ci tolgo una curiosità anzitutto, che magari è una piccola parentesi che apriamo. Cosa sono quei meravigliosi colori che si vedono alla sera? È un sistema di luci a LED a basso impatto luminoso, a basso consumo, che ci consente di illuminare l'istituto di ricerca di notte, insomma, tra la sera e la notte, per dare una significatività dell'opera. L'opera ha anche un valore architettonico non indifferente, visto e considerato che ci è stata regalata il progetto dall'architetto Paolo Portoghesi. Noi poi nella fase di realizzazione abbiamo fatto qualche piccolissimo aggiustamento e l'opera, secondo l'idea ispiratoria dell'architetto Portoghesi, racchiude, ravvede, raffigura le ali di un angelo e poi l'opera si avvita su se stessa, proprio il manufatto si avvita su se stesso di 5 gradi in senso anti-orario e poi di 5 gradi in senso orario e quello, sempre secondo l'idea di Paolo Portoghesi, significava la doppia elica di DNA, quindi mettendo insieme un'attività di ricerca con un'attività di prognosi positiva futura e quindi le ali dell'angelo dovrebbero avere quello di sopportare, supportare e sollevare il paziente da eventuali diagnosi negative che si facciano all'interno oppure attraverso la ricerca all'interno dell'istituto. I primi 4 piani e mezzo sono ospitate le attività di ricerca, di diagnostica avanzata del Dipartimento di Pediatria, quindi tutte le attività per quanto riguarda le malattie genetiche, le malattie neuromuscolari, le malattie con alterazioni dei cromosomi, tutte le malattie neoplastiche infantili, le malattie dell'atterazione dei mitocondri, le malattie dell'apparato respiratorio. Poi ospitiamo una fondazione che si chiama Fondazione Penta che fa attività di coordinamento di progetti per bambini HIV positivi, è una fondazione meritoria che da tanti anni, di cui il Presidente, il Dottor Carlo Giacquinto, si occupa di queste attività di coordinamento e di finanziamento anche di attività di sensibilizzazione e poi ci sono una piccola parte del sesto piano, sono ospitati gli uffici amministrativi della Fondazione dell'Istituto e poi abbiamo una presa, una ditta specializzata nell'attività di ricerca e diagnostica anche nella fibrosicistica che è Research Innovation e gli ultimi due piani si stanno completando. Il metà del settimo piano viene fatta un'attività avanzata da un punto di vista di attività di ricerca ed è quella che fa capo al Dottor Paolo De Coppi sulla medicina regenerativa, utilizzo di cellule staminali e la possibilità quindi in un futuro non tremendamente lontano di poter rigenerare organi mancanti magari dalla nascita nei piccoli pazienti. Il Dottor De Coppi, che è trevigiano, Head of the Surgery Unit, si è stato all'Istituto del Child Health di Londra. In questo momento lui ha una doppia posizione, una posizione di ricercatore confermato all'Università di Padova e in più dirige l'unità di chirurgia pediatrica in uno degli ospedali di chirurgia pediatrica di riferimento europei che è Griton Street, che è un ospedale tremendamente qualificato per tutte le patologie, soprattutto le patologie più complesse, più complicate e soprattutto nelle patologie con gravi alterazioni alla nascita, tipo le agenesie, organi mancanti. Padova si sta definendo in maniera importante proprio anche per quelle che sono le patologie dell'età dell'infanzia, dell'età della crescita, perché proprio ieri è stato celebrato un altro compleanno, insomma, quello del centro che si occupa di malattie della vista, che si occupa proprio di pazienti da 0-18 anni e vediamo che l'incidenza di patologie, soprattutto nelle ultime generazioni, in pazienti molto piccoli, diventa sempre più significativa. Non dobbiamo dimenticarci una cosa importante, che Padova sorregge su due entità fondamentali da un punto di vista della salute. Un'attività importantissima che è la formazione, quindi un ateneo che forma studenti, medici, dottorandi e borsisti. Senza la formazione tutte queste attività non possono assolutamente avvenire. L'altra possibilità è quella di avere vicino, prossimo, parallelo, immediatamente disponibile, un'azienda ospedaliera, un ospedale dove tutte le attività di ricerca possono essere traslate e immediatamente, tra virgolette, testate anche sul paziente. L'imbricazione e la sinergia tra queste entità ne fa di Padova sicuramente un elemento leader da un punto di vista di sanità regionale, ma in tutta Italia assolutamente la nostra sanità è una sanità sicuramente di eccellenza, senza ombra di dubbio. Dottor Bellone, c'è sempre una questione che crediamo anche il pubblico si ponga. Quando si ha a che fare con un paziente che non parla, il piccolo, l'infante? Il vostro lavoro diventa particolarmente difficile? Cioè cogliere i sintomi, studiare, osservare il bambino? Anche lì gioca un ruolo fondamentale la formazione e l'esperienza. Gli ospedali, le cliniche universitarie di cui noi siamo dotati sono delle palestre assolutamente efficienti ed efficaci per consentire agli studenti, i medici e poi agli specializzanti, perché è necessaria una specializzazione per poter affrontare questo tipo di patologie, per saper interpretare segni e sintomi anche in chi non sa manifestare segni o non può in quel momento manifestare segni e sintomi. E questo avviene non solo ed esclusivamente per i bambini, tra virgolette, normali, cioè bambini assolutamente normali da un punto di vista sanitario, senza alterazioni particolari, senza patologie, ma che magari accedono al servizio sanitario anche per delle patologie banali e questo a maggior ragione ancora di più avviene per tutti quei bambini che magari hanno delle alterazioni congenite importanti, tipo malattie neuromuscolari, malattie degenerative, che non sanno comunque esprimersi in nessun modo, neanche magari quando raggiungono un'età diversa. Sempre la nostra città ha un altro gioiello che nessuno ha in nessuna parte d'Italia, che è il Centro per le cure palliative pediatriche, che si trascina, tra virgolette, una denominazione dell'adulto che è l'ospis pediatrico, ma che ha molto poco dell'attività terminale, così come viene interpretato l'ospis dell'adulto e ha moltissimo invece dell'attività riabilitativa e di consegna all'affrontare la vita anche chi ha una patologia per la quale in questo momento non esiste cura, non esiste terapia, in cui è tutto spostato sull'assistenza, sulla riabilitazione, in attesa che la ricerca individui percorsi terapeutici efficaci. Ed è un centro che merita essere conosciuto, che perfettamente si integra con tutta la pediatria, perché è il luogo anche fisico, i medici che operano in questo centro sono anche i medici che sono poi responsabili di rendere completamente privo di qualsiasi dolore tutte le procedure che vengono fatte per qualsiasi motivo nei bambini e quindi proprio non avvertire minimamente dolore. Anche questo sembra una cosa banale, ma comunque vanno fatte tutta una serie di attività che tolgono il dolore, non facciano minimamente avvertire il dolore né al paziente che soffre perché magari si rivolge al pronto soccorso, all'ospedale in sofferenza o perché deve subire un accertamento sanitario che provochi dolore, tipo una biopsia, un esame invasivo come può essere una colonoscopia, una gastroscopia e quant'altro. Oppure, faccio anche degli altri esempi, un'estrazione dentaria in un paziente che non sia in grado di eseguire il comando del medico di tenere la bocca aperta perché magari è un deficit mentale, ma comunque può avere un ascesso dentario e bisogna comunque... e quindi tutte queste cose vengono fatte in pediatria come centro per le cure palliative e una parte invece stanziale di degenza, tutti quei bambini per i quali in questo momento non si conosce cura, nel vero senso della parola, che vengono comunque assistiti in maniera eccezionale, consiglio di informarsi su questa cosa perché magari non ci si avvicina anche perché si ha paura, vanno a scuola, si diplomano e riescono comunque ad avere una vita vicino alla normalità, non esattamente identica alla vita di un altro bambino di pari età, privo di malattie, però sembra, tra virgolette così, una contraddizione, ma è un centro che restituisce una vita a chi magari non la intravede o la vede a tempo. Sì, sa, non è per scadere in una battuta se vuole banale o magari fuori luogo, ma questi magari sono individui che forse in virtù dell'esperienza che hanno vissuto magari saranno maturati forse un po' prima del tempo. Sono bambini che sono costretti a subire la patologia, senza un numero di dubbio, nella quale il ruolo dei medici è fondamentale nell'alleviare il più possibile tutte queste negatività. Sono bambini però che riescono comunque a sognare, riescono comunque a giocare, riescono a interagire con i loro familiari, con i fratelli e ovviamente con i loro coetanei. Senti, un'altra domanda che tante volte ci si pone. Quanto nei piccoli pazienti il medico, uomo o donna che sia, vede i propri figli? Lì, vuol dire, non avviene solo esclusivamente con i propri figli, ma avviene anche con i simili. È molto difficile curare i parenti, tra virgolette, ma non per le cose banali, perché, questo succede anche nella mia professione di medico, curare e sapere essere oggettivi, obiettivi e non essere travolti dal sentimento nel curare i prossimi è molto difficile. Però, anche lì, è una palestra di vita che costantemente si fa tutti i giorni, non si è mai raggiunta la forma ottimale, perché ovviamente ogni bambino, ogni paziente porta un carico emotivo, un carico di responsabilità, un carico decisionale completamente diverso da quello precedente. Costantemente il medico si relaziona e si forma su queste cose. E sa cos'è che tante volte sembra quasi spezzare il cuore? Crediamo non solo a noi cittadini, ma anche a voi medici, la dignità con cui questi bambini affrontano il percorso del dolore. I bambini sono una forza della natura assolutamente invincibile. I bambini in ospedale non perdono mai la caratteristica di essere bambino e nonostante possa avere non so quante apparecchiature che li controllano, le funzioni vitali, fleboclisi che gli infondono sostanze necessarie a sconfiggere le malattie. Io li ho visti continuare a giocare, continuare a ridere, sorridere, cosa che difficilmente si vede nell'adulto. Il bambino è, ripeto, una forza diversa, decisamente molto più importante, che va ovviamente governata e dimostra assolutamente di avere molto più coraggio e molta più determinazione. Difficilmente si abbatte. Non dobbiamo dimenticarci tutta l'attività che viene svolta, non solo e scusamente dai medici, ma tutte le altre figure professionali, quel nucleo di care giver che stanno intorno al bambino ammalato, che è fatto di psicologi, infermieri, operatori sanitari, volontari. C'è tutta una serie di attività di volontariato puro, di persone che decidono di mettere a disposizione la loro professionalità o il loro tempo per stare con questi bambini che vengono sottoposti a una formazione, perché non è assolutamente una cosa semplicissima, in maniera tale che venga ricreato e mantenuto il più possibile il miglior benessere possibile per il piccolo paziente, o piccolo o grande. Anche gli adolescenti vanno in ospedale e hanno un'età di cui è difficile tenere un adolescente in ospedale, molto più difficile che tenere un bambino di 2-3 anni. Ecco, senta, per pediatria si intende il paziente migliamente fino a che età? Per noi è 0-18. Ah, 0-18? 0-18. Ogni tanto qualcuno cerca di creare gli specialisti degli adolescenti, sicuramente comunque c'è necessità di figure che abbiano una professionalità e un orientamento professionale diverso rispetto a saper coprire lo 0-18. Le necessità degli adolescenti di adesso richiedono professionalità spiccate e che magari non sono le stesse per uno specialista, sempre nell'ambito della pediatria, dell'età anagrafica precedente. Però per noi, codice ISTAT, tra virgolette, la pediatria è 0-18. Dottor Bellon, per chiudere questa nostra piacevolissima conversazione, possiamo anticipare in quest'anno così importante dal punto di vista della ricorrenza se ci saranno particolari iniziative, sempre che si possono rivelare, o se sarete legati, come avviene ormai da tantissimi anni a questa parte, a manifestazioni particolarmente significative? Allora, Qualcuna, se non è che le chiediamo. Più o meno in ogni anno vengono fatte, autorizzate dalla Fondazione Città della Speranza, circa una manifestazione al giorno. Caspita! 360, 350, 370, insomma comunque quelle che sono assolutamente svariate. Quest'anno la città di Padova salterà, tra virgolette, non vedrà l'appuntamento degli ultimi anni del Guinness. Ricordiamoci. Esatto, che è sempre stato un punto, negli ultimi quattro anni è stata comunque una manifestazione attesa che ha dato molto alla Città della Speranza e spero abbia dato molto anche a chi ha partecipato a questi tentativi di Guinness. Sono sempre più persone poi. Esattamente, sono sempre di più perché bisogna metterne insieme tante, perché questa è stata la filosofia che ha messo insieme i promotori del Guinness. Ci saranno numerose manifestazioni, probabilmente nel contesto della celebrazione del ventennio che avviene nel mese di dicembre, magari in concomitanza con le feste natalizie conferenzioneremo un evento particolare che sia significativo per il ventennio della Fondazione. Qui c'è la Maratona del Santo, tra non molto. La Maratona del Santo, anche quella da 12 o 13 anni, è un veicolo promozionale per la Fondazione Città della Speranza. Quest'anno faremo una squadra della Fondazione Città della Speranza che si mette in competizione, tra virgolette, con le squadre delle altre on-loose che sono sempre sostenute dalla Maratona del Santo in uno spirito di solidarietà assolutamente non competitivo, ma a favore di chi ha necessità di essere aiutato. E meno male che parliamo di Maratona ma non di gare di nuoto, perché sennò col dottor Bellon non ci sarebbe storia per nessuno, lo ricordiamo. È stato tra l'altro campione a livello nazionale. Non diciamo in gioventù perché non è vecchio, insomma, diciamo qualche anno fa. Per condividere l'età, ho capito. Bene, allora osserviamo un attimo il cronometro perché il tempo è sempre un po' tiranno. Sì, purtroppo siamo ormai in conclusione di questo nostro spazio. Bene, allora avete sentito da Stefano Bellon, direttore generale dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza. 20 anni quest'anno, per cui tante occasioni per conoscere ancora di più questa bella realtà. www.cittadelasperanza.org Città, ovviamente senza accento, della speranza, una parola sola, .org Dottor Bellon, noi le siamo estremamente grati anche per la chiarezza con cui ha esposto l'attività che conducete quotidianamente, lo ricordiamo, e confidiamo al nostro ospite alla fine qual era il titolo, insomma, di questo spazio. Piccolo, grande, male. Piccolo perché è riferito ai piccoli pazienti, grande, male perché è un grande male. Ovviamente parliamo di forme oncologiche, però parliamo anche della grande soddisfazione di vincere questo male e di portare avanti un lavoro che sta dando delle grosse soddisfazioni. Grazie Stefano Bellon e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie al nostro ospite, a voi che ci avete seguito, domani torna 7 in punto, le nostre edizioni di TG7 a partire, come di consueto, più tardi, dalle 12.40. Buona giornata, arrivederci e grazie ancora per l'attenzione. Grazie a tutti.